Con proprio avviso pubblicato sul sito istituzionale, avviso relativo alla nuova piattaforma Sistemi Acquisti Telematici della provincia di Salerno e relativi albi telematici, la provincia di Salerno adotta la nuova piattaforma denominata Sistema Acquisti Telematici della provincia di Salerno, SAT, rinnovata con nuove funzionalità e allineata al codice dei contratti pubblici. Il Decreto Legislativo numero 50 del 19 aprile 2016 dà disposizioni specifiche in merito al recepimento delle direttive europee e introduce le azioni necessarie a regolamentare e standardizzare i processi e le procedure in tale ambito, con lo scopo di promuovere la domanda pubblica di innovazione, mirando alla semplificazione, digitalizzazione e trasparenza delle procedure di aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici. Gli operatori economici interessati possono quindi collegarsi al portale SAT, sia attraverso il sito istituzionale dell'ente, al banner Gare e Albi Telematici, oppure andando direttamente all'indirizzo portale gare.provincia.salerno.it. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, dichiara il presidente della provincia, Michele Stranese, la provincia di Salerno è di nuova operativa per la gestione digitalizzata delle procedure di gara. Il portale SAT, come tutte le piattaforme, rappresenta una fondamentale leva per la crescita dell'economia, per la modernizzazione di una maggiore efficienza dei processi amministrativi, per il controllo e la riduzione della spesa pubblica. Oltre al pieno rispetto della normativa vigente, consente di gestire in maniera veloce e sicura le procedure di acquisto dell'ente, garantendo quindi trasparenza e parità di trattamento. Voglio sottolineare che ad oggi, fra le province campane, solo la provincia di Salerno, insieme alla città metropolitana di Napoli, ha attivato una piattaforma di e-procurement.